Faccio l'attivazione a radio del castello. Sicù, sicù, sicù. Italy Zulu for Victor Kebexier. Sicù, poi ti manderò una QSL speciale per l'attivazione del piccolo castello di Compiano. Piccolo castello di Compiano. QSL. Roger, Roger, Francesco, Italia, Uniform 3, Oscar, Victor, Lima. Guarda, io esco con 2 Watt, 2 Watt. Mi trovo in località Compiano, in provincia di Parma. QSL. Delta Lima 4, Victor Alpha, India, QSL. QSL. Roger, Roger, my friend, Delta Lima 4, Victor Alpha, India. My call, Italy Zulu for Victor Kebexier. Portable QRP, only 2 Watt, only 2 Watt. QSL. Roger, Roger, Italy Zulu for Victor Quebec Sierra. I repeat, Italy Zulu for Victor Kebexier. My name Alessandro, back to you. No, 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 Italy Zulu for Victor Kebexier. Italia Zulu 4, Victor Kebexier. Italia Zulu 4, Victor Kebexier, portatile QRP, QSL. QSL, Alessandro, 5, 6, 5, 5, 7, comprensibile qui sull'anno maggiore. Complimenti per il portatile QRP, sei a logo, punto della EQSL, a te Alessandro, cambio. Italy Zulu 4, Victor Kebexier, portatile QRP, QSL. Allora, Italia Zulu 4, Victor Kebexier, portatile QRP, QSL. Roger, Roger, 5, 8, 5, 9 per te, la mia potenza 2 Watt, 2 Watt antena di Polo. A te il cambio, Italia Taglia 2, Victor, QSL. Adiosigent. Ilenario 1. Allora, 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 allora. Grazie a tutti